È stato Franco Cardini il primo ospite della seconda edizione del festival dedicato alla politica e alla contemporaneità, Altiscaffali, che fino al 21 settembre sarà ospitato dalla Fortezza Medicea di Arezzo per capire nuovi modi di vedere il mondo. Noi abbiamo cercato di individuare intellettuali di gran vaglia, di grande qualità, al contempo personaggi mediatici. Quindi presentarlo anche alla cittadinanza aretina, insomma al pubblico degli aretini che stasera è presente, ci sembrava un'opportunità così propizia. Cardini, professore merito di storia medievale all'Istituto di Scienze Umane e Sociali della Scuola Superiore Normale di Pisa, nonché vice direttore della Scuola Superiore di Scienze Storiche dell'Università di San Marino, nel suo incontro ha affrontato il tema dell'Occidente, ossia che cosa significa oggi questo termine. I parametri sono cambiati, se ci si fa intrappolare dalle parole evidentemente si discute che cos'è ora l'Occidente, cos'è diventato, e tutto questo si può fare, io l'ho anche fatto nel libro, e può essere anche che sia utile. Ma il problema fondamentale è che ormai i risultati della rivoluzione occidentale che c'è stata, e questo è stato quando l'Europa ha infranto un principio fondamentale storico, non ha mica fatto un delitto, ha fatto una rivoluzione appunto. Nella rivoluzione c'è sempre un momento che va contro le leggi precedenti, e poi dopodiché la rivoluzione si istituzionalizza. Qual è stato? Il fatto che il mondo prima era un mondo a compartimenti stagni. Poi abbiamo avuto l'idea di diffondere il cristianesimo, il cristianesimo e per molti versi anche l'Islam, sono religioni universali, sono religioni che obbligano la gente a pensare che non siamo divisi in gruppi umani, come se fossero estranei, ma che siamo tutti la grande famiglia. Noi la grande famiglia l'abbiamo fatta, la globalizzazione è questo. Certo l'abbiamo fatta a nostro fondamentale vantaggio, e con le nostre norme, con le nostre regole, secondo i nostri interessi. Facendo questo abbiamo senza dubbio contravvenuto a uno dei nostri principi, che era il principio umanitario.